salve a tutti quanti ragazzi benvenuti in questo decimo episodio di minecraft e qui con me c'è gabriele prg eccoci qua ragazzi come potete vedere ci sono delle cose dietro di noi sono dei monitor con un computer semplice semplice esatto e sono in pratica dei monitor che ti che grazie tramite un sito tipo altervista se voi avete un canale qualsiasi dominio di un sito internet con il vostro canale diciamo dai diciamoci le cose lo spiego un po meglio io ho un mio sito internet su altervista e su quel sito internet o il mio sito tradizionale è nascosto caricato un file che quel file cosa fa mi va a tramite questi computer che lo vanno a leggere mi va a leggere i quanti iscritti o io o lui sul nostro canale risponde e mi porta i risultati su questo computer il computer li elabora e mi scrive sul monitor in pratica lui c'ha 43 iscritti se non sbaglio forse sono scesi 43 e io invece 602 poi abbiamo fatto altre cose qua come potete vedere ci sono due macchine di nuovi il mi partner coder e il mi crafting monitor che in pratica sarebbero questo programma qua il mi partner coder in pratica voi craftate un oggetto un item lo mettete qua nella in questi tre quadratini se ricordo tipo fate un piccone in diamante lo mettete qua in uno di questi quadratini fate encode giusto allora in pratica mettiamo se facciamo piccone diamante dobbiamo mettere su questa diciamo crafting come se dovessimo cratta craftare il piccone quindi tre diamanti sopra e due sotto e a destra ci appare sotto il clear sopra l'encode il nostro piccone gli diamo encode e lui ci crea il pattern e però dopo ve lo farò vedere meglio tanto oggi faremo i pannelli solari quindi vi farò vedere come funziona ecco lui per esempio ha messo rimetti quel cubo ha messo il cubo di lapis noi sappiamo che un cubo di lapis ci crafta ci droppa nove lapis quindi se io avessi solo cubi di lapis nel computer e avessi bisogno di craftarmi un landmark che serve una torcia di redstone per craftarla e servono i lapis e non ho lapis nel computer lui sa che per avere i lapis basta che rompa il blocco di lapis lazuli quindi io gli faccio il pattern io lo metto dentro e lui quando io gli chiedo creami un landmark lui mi va a creare la torcia di redstone ovviamente gli di aver fatto il pattern poi dice o mi mancano i lapis o un blocco di lapis ok spacco quello non 9 posso fare 9 torce tutto così funziona questo vabbè ma se per esempio se volessi fare un me blank pattener e volessi fare quel blocco di azzurro di lapis lazuli come si chiama quello che tanto ci servirà di mettere 9 lapis e ti fa il blocco e che tanto ci servirà in ogni caso perché ci dobbiamo fare un materiale un nuovo coso dobbiamo fare un altro aspetta dobbiamo fare un item una specie di vabbè dobbiamo fare un come cavolo si chiama macchinario macchinario e ci serve un uno di questi quindi cosa faccio encode eccolo qua lo vedete questo qui lo prendo questo vabbè mettiamolo tutto giù ok non puoi prenderlo vabbè ma l'hai encodato già lo mettiamo qua ed ecco qua il nostro me encodec partner che ci farà un lapis lazuli block quindi quando io dovrò fare un altro lapis lazuli io vado qui anzi qua no aspetta no sul computer qua sotto ah questo qua scusa dico voglio fare lapis lapis eccolo qua vedete c'è scritto craft io in pratica lo clicco dico ne voglio uno e faccio begging giusto giusto e te lo fa in poche parole adesso non voglio farlo perché non ci serve per adesso un esempio adesso cose nuove sopra ho dovuto allargare anche nel coso del creosote oil eccolo qua ha fatto una stanza grande perché si era riempito quindi ho dovuto crearne un altro abbiamo creato più più cosi diciamo abbiamo espansi i motori abbiamo espansi i motori e poi qua come stavamo facendo vedere prima c'era il maceratore l'avete già visto l'estrattore se mi ricordo l'avete visto nel non episodio che vi fa i rubber e abbiamo fatto questo che sarebbe il compressore il compressore che cosa fa in pratica prendendo l'uranium ore e mettendolo nel maceratore e poi dopo queste polverine queste crusade uranium ore le prendiamo e le mettiamo sul compressore ci fa i blocchi di uranium ingot e voi direte cosa ci servono questi uranium ingot e ce lo tirare su gabriele cosa meno faccio fare un po anche a lui gli uranium ingot e li possiamo usare per fare i reattori nucleare per fare il ma diciamo una fabbrica nucleare che crea corrente però quello adesso facciamo altro volevamo fare i solar panner ecco però non quelli classici quindi adesso io ho già messo nel maceratore a farmi la coal dust a me mi devi dire il numero di quello lì perché non so se no non so andare avanti 6 1 1 2.3 è il primo che dobbiamo fare aspetta 6 1 1 6 1 1 2.3 quello è il primo che dobbiamo fare però per spiegarvi i pattern in code li faremo tramite il computer invece di craftarli a mano e poi faremo gli advanced solar panel che sono questi qua adesso se lui si mette a spiegarlo da solo io non capisco allora l'electronic circuit credo che li avevi già creati per farli direttamente i pattern si ci sono già infatti vedete sono qui eccoli qua quindi ma tu quale stai facendo perché sennò poi mi incasino no io non sto ancora facendo niente quello finale per adesso sarà il 187 vabbè io quindi creo questo solar panel no mi devi dare solo i materiali per crearlo che faccio il pattern e poi lo crei dopo col pattern così glieli facciamo vedere come si usa quindi crea due electronic circuit un generatore e poi prendi del vetro e della coal dust vabbè il generatore se mi ricordo ho già fatto il pattern eh l'hai fatto già col computer si quindi digli di craftarne uno che mi serve uno per fare gli altri pattern eccolo qua il bagging ah ci manca qualcosa che mi serve uno per fare gli altri Grazie per la visione! 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 Grazie! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!